ciao bruno allora sono invitato qui guarda che bella piazza ho visto visto però non è sestri però siamo usciti fuori i confini però parliamo di sestri anche qua anzi soprattutto sono stato invitato da a compagna oggi che venerdì 5 maggio 2023 per parlare di un libro che avevo scritto 16 anni fa che era il libro sulla storia della filarmonica sestresa e mentre adesso ne sto scrivendo già un altro hanno scoperto questo libro e mi hanno dedicato questo pomeriggio qui a palazzo ducale dove dovrò parlare del libro e raccontare delle cose e con piacere ho accettato anche perché la filarmonica questa sera fa la seconda replica della norma del carlo felice carlo felice quello e noi siamo abbiamo già fatto le prove poi abbiamo fatto la prima e questa sera c'è di nuovo un'altra replica e siamo ben felici di essere qua noi di sestri ospiti di genova avviamoci che ci stanno aspettando va bene anche bello questo venire qui è sempre bello è vedi quel cortile laggiù in fondo noi della filarmonica sestresa sono più di 30 anni che facciamo delle dei concerti sia quando c'è il fai anno ti ho presentato carissimo amico lucio lui è un socio fa oggi fa l'aiutante ma nello stesso tempo lui è proprio un socio di accompagna che oggi ci ospita va bene ho fatto con compagna ecco dai tutto in diretta entriamo penso di sì o eccoci qua sera buonasera 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 grazie a tutti grazie a tutti